Benvenuti, spero che sia utile per tutti quanti, buona giornata. Manico Canegra è il donare di un benificio a Castelta Arco Vento. Una sorta di collaborazione con Forno d'Azolo, con il quale sono dedicati a tutti i bambini. Ringraziamenti a Tecnoeca che ci ospita in questa bellissima struttura e grazie a voi di essere qui. L'ultima tra questi è il vegano Sambuco e Lampone. La temperatura è di 170 gradi, una minuta e un po' di cuore per il discorso che scioglie un po' la mozzarella. No, adesso questi sono la zucca, polpa di zucca e dopo sono la zucca. Come vedete ho farcito queste pizze romane e adesso le mettiamo in forno a 200 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi consiglio di mangiarle adesso che sono ancora tiepide. Ciao. 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 Grazie per la visione!